Per la rubrica Angolo Tecnico, il negozio Nardelli Sport questa settimana illustra le novità in tema di sci alpinismo. Buonasera da Nardelli Sport. Questa volta l'Angolo Tecnico è dedicato allo sci alpinismo. La nostra idea è presentare quel prodotto medio che normalmente è ricercato da chi desidera godere la montagna, la gode già d'estate, la gode magari d'inverno sulle piste da sci e qualche volta si vuole avventurare nel silenzio e nella bellezza della montagna invernale. Partiamo dagli scarponi. Uno degli scarponi più usati da questo pubblico è il maestrale della scarpa. Una scarpa, scusate il gioco di parole, che è collaudatissima, rinnovata negli anni a livello estetico e di finiture, ma una garanzia per quanti anni è sul mercato. Alleggerita, però sempre sono presenti molte leve per garantire anche un buon bloccaggio nella discesa. Ovviamente la leva da passaggio da salita a discesa per la camminata è molto semplice da utilizzare e è molto robusta. All'interno di quello che è lo scafo possiamo trovare la scarpetta termoformante, una scarpetta che con il calore prenderà la forma del piede che la indossa. Molto comodo è l'accesso che si apre adesso la scarpa benissimo, quindi per entrare è ancora più comodo e la leggerezza direi che è invidiabile in rapporto a quanto tecnicità e controllo per la discesa offre questa scarpa. Affiancata a questo modello potremo presentare una versione analoga anche nella fascia prezzo della Dynafit. In questo caso ci abbassiamo qualcosina sul peso, alleggeriamo ulteriormente, però il materiale è un po' più morbido, le leve sono due e quindi la garanzia di bloccaggio del piede per la discesa va un po' a scapito della leggerezza e quindi sarà un po' inferiore. A seconda che si privilegi l'andare più veloce in salita o meglio in discesa il cliente si può orientare su una fascia o sull'altra.